Era maggio e era capace di livrarlo a tutti la vita Era maggio e era capace di livrarlo a tutti la vita Ma tu, ti d'ora e poi ti consagra, noi non siamo noi, sono servitori di un ideale, giusto e di libertà. Forza ragazzi, a voi la croce, forza gridati, alzate la voce. Grazie a tutti. 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 ... a tutti. 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 a tutti.